E allora abbiamo festeggiato ieri, abbiamo festeggiato alla grande. Coccolatini, rose e bistecche, perché il consiglio di Luciano Nellio è stata la bistecca. No, bello, perché noi abbiamo fatto una serata bellissima, molto molto per gli innamorati, quindi tutte le canzoni erano molto canzoni d'amore. C'erano i gamberoni, sono molto, dicono, afrodisiaci, quindi per San Valentino è più giusto. È una domanda che non c'entra niente con San Valentino e neanche con noi. Hai avuto, hai avuto. Cosa preferisci, i gamberoni o la bistecca? Ma qui veramente mi metti in una situazione di imbarazzo. Lo so che ti piacciono tutte e due. Allora, i gamberoni, i gamberoni, se sono tanti, perché la bistecca sazia di più, no? Le mie bistecche, quelle... Allora, tanti gamberoni o la bistecca? Ecco, una bistecca. Che eleganza, eh, nella risposta. E a te, Luciano Nellio, cosa piace di più? Ma non ce l'aspettava nessuno, assolutamente la bistecca. Ecco, sì? Sì, sì. Allora, i gamberoni, Luciano Nelli per bagno io. Vediamo il menù di oggi. Oggi? Scusa, vive, fai così. È un menù, è un menù. Allora ci sono io con una canzone bellissima girata tra l'altro a Berlino e poi dopo... Ci prepariamo allora psicologicamente. Stiamo preparando Franco Bagutti e una dedica speciale. Adesso non so dove sia stato preso questo filmato, ma è una dedica molto speciale. E poi Le Blonde, Gabriel De Luca, Cristiano Chesi e Tiziana Caserta con Tarzan e Jane. E qui è una cosa, orchestra, street band e la vaporiera. È una novità, è gone. Allora, vedremo. In ogni caso partiamo con Pensa. Luciano Nellio. Questo videoclip è girato intorno a Berlino ed è con un bel vento, con un bel cappello che volava da tutte le parti, in ogni caso... Però l'ha recuperato. L'ha recuperato. Ok, Luciano Nelli, Pensa, per voi. Pensa, ogni giorno, pensa, ogni istante, pensa, ogni attimo, importante. Ogni giorno insieme a te, importante, ogni attimo, vissuto, intensamente. Vivevamo il nostro fotoromanzo, sembravamo soli io e te al mondo. Ma la vita a volte non è sempre rosa, dietro ad ogni angolo una sorpresa. Io sono qui ed anche tu ancora sei qui con me. Allora, pensa, ogni giorno, non è sempre rosa. Allora, pensa a quei momenti vissuti d'amore, a quelle notti, a quelle ore. Una luce accesa per riprovare, un'altra volta ricominciare. Allora, pensa, 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 sai che ovunque e per sempre tu mi troverai. Ogni istante, ogni attimo, importante, pensa, ogni giorno, pensa, ogni istante, pensa. Ogni attimo, importante, pensa, ogni attimo, importante, pensa, ancora un po', poi deciderai. Sai che ovunque e per sempre tu mi troverai. E adesso andiamo con una canzone che a Paola piace molto, che è Bello Amore, dall'orchestra Bagutti. Franco Bagutti. Franco Bagutti, Bello Amore. E andiamo, dopo Pensa, Bello Amore. Bello Amore, bello amore. Sulla sabbia ci sei tu, e mi fai sognare tu, 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 e mi fai sognare. Brucia la tua penne sotto il sol, brucia la tua penne sotto il sol, io ti prenderò, io ti amerò. Brucia la tua penne sotto il sol, io ti prenderò, io ti amerò. Bello Amore, bello amore. Bello Amore, bello amore. Tu, 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 tu mi fai sognare. Tu, 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 bello amore, bello amore, sulla sabbia ci sei tu, che mi fai sognare, tu, 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 che mi fai sognare. Bello amore, bello amore, sulla sabbia ci sei tu. Che mi fai sognare, tu, 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 che mi fai sognare. Che mi fai sognare, tu, 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 che mi fai sognare. Giù boss dediche, vediamo un po' che ci ha scritto per oggi. Uè, se ti dico uè, dove scrivono? Dalla Campania. Dalla Campania. Bello, grande, bene. Marano di Napoli. Marano di Napoli. Conosci? No, però... Magari una zona, no. Una zona di Napoli no, ma sarà un paese. Carmine per Salvatore e Pasquale. Carmine per Salvatore e Pasquale, tutti i nomi diciamo milanesi. Buonasera, una dedica per i miei amici Salvatore e Pasquale, che sono nati lo stesso giorno, il 15 di febbraio. Allora, tanti auguri, doppi. Solamente la versione di Luciano, per favore. È una minaccia. Ma che canzone è? Aspetta, siamo tutti i suoi fans, vi guardiamo tutti i giorni su Sky. Grazie, grazie da voi. Vogliono la tua, rigorosamente la tua guapparia. Guapparia, che bello. E qui abbiamo un bel live Scandinavia 2000, Luciano. Ah, la grande. Vabbè, quella è meravigliosa davvero. Allora, no, devo dire di questa canzone, che quando io l'ho imparata ormai parecchi anni fa, e poi appunto la inserivo in tutti i miei spettacoli internazionali che facevo in giro per il mondo. Ma per avere l'abbastanza giusta, perché poi sembra facile, ma il napoletano è una cosa un po' particolare. Per chi non è napoletano, insomma, verace. Mi feci scrivere sia, diciamo, il testo in napoletano originale, sia anche la pronuncia da un mio amico Peppino, che era un pizzaiolo di Chiacciano Terme, che ovviamente era napoletano. E montai con l'orchestra, si montò questa guapparia. Comunque, tanti auguri a voi, Salvatore Pasquale, da parte del vostro amico Carmine. Guapparia c'è. Dio boss dediche, eccola qua per voi. Dio boss dediche, eccola qua per voi. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto. E adesso andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi. Paola va a intervistarlo e adesso andiamo a vedere cosa scopriremo. Io faccio partire la sigla. Vienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio nel salotto di Ritornelli, le blonde. Vedi, le blonde, uno si aspetta tre blonde. Eh, certo. E c'abbiamo due blonde e un grey, direi, però è un greo. Ma che grey. E il conte, Max, Mr. Grey. Vedi, sono fascia. Ma nelle serate delle blonde, ma Lori, dimmi tu che sei parziale. Sì. E li fanno la corte, Patti. Qualcuna, sì. Ma tu, Max, stai alle tastiere. Cosa fai nella serata? Faccio le tastiere, poi vi mando le musiche. E poi decidono loro quello che vogliono. Certo, quindi sei succube. Certo. Invece la Lori da quanto tempo fa parte del gruppo? La Lori ha sempre fatto parte del gruppo, è sempre stata la nostra prima scelta. Quindi è un ritorno dopo una forzata, come dire, sospensione dei lavori, diciamo così. Perché aveva altri impegni e quindi non poteva fare serate. Però vedi, a volte i veri amori poi si riconosciugono. Ecco, la canzone, però vorrei che uno dicesse dell'altro, la canzone che per esempio, secondo te, Lori, la Patti canta meglio. Allora, la Patti, devo dire la verità, canta tutto con molta, molta passione. Vero, con tanto cuore. Sì, con tanto cuore. E quando canta, sia Renato Zero che Patti Bravo tira fuori il meglio di lei. Eh sì, sono nel mio cuore. È vero, concordo, approvo e sottoscrivo. Invece, Patti, la Lori che cosa ha? Allora, la Lori è un pochino più sul ballabile e quindi le piacciono tutte le canzoni un pochino più melodiche, del balli standard, del liscio. Ma anche gli Evergreen della musica italiana, perché voi privilegete l'italiano, no? Sì, 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 noi privilegiamo l'italiano. E quindi musica a 360 gradi per accontentare tutto il pubblico. Siete d'accordo? Io oggi passerei una canzone da un certo Berlino del 2020, Notte delle Stelle, Festival del Cinema, dove abbiamo avuto l'onore di avere la Patti e Max sul palco con noi. Io e Luciano Nelli vi invitiamo nuovamente, ma con Lori. Con Lori, questa volta abbiamo anche Lori. In febbraio, febbraio 2023. Si è prenotata. Si è già prenotata. Allora, tu guarda cosa è successo nel 2020 con la prima cosa bella. The Blonde. Ho preso la chitarra e suono per te, il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane. Svei tu, dagli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più, sempre più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane. Svei tu, dagli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più, sempre più. Gabriele De Luca è specialista di questi medley speciali. Veramente la grande, con un bellissimo repertorio che fa ballare veramente tutti con queste belle canzoni. In questo caso ci fa ascoltare un bel medley dedicato a Fred Bongusto, quindi con canzoni di successo di Fred Bongusto. Gabriele De Luca. Dei lanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come venere d'onda. Ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In l'anno la classifica, pedischi, ascolti e ridi con tuoi occhi freschi. La vostra canzone è prima da tre settimane. Tre settimane da raccontare, hai amici tornando dal mare, ma cosa ho detto di male, non fare l'offesa, ti prego ritorna qui. E' tanto poco che ci conosciamo, e ancora non ti ho detto che ti amo, ma ogni giorno che passa mi sto innamorando di più. Come se questa estate con te. La mia estate con te non contasse più, non bastasse più, non tornasse più come se La mia estate con te, la mia estate con te, la mia vita con te, non fosse mai, esistita mai, e vissuta mai. E adesso ci spostiamo sicuramente nella giungla e andiamo a vedere che cosa stanno combinando Tarzan e Jane. Tra una linea e l'altra. Insomma, in fondo sono Tiziana Caserta e Cristiano Chesi. Vai, sono loro. La storia del mondo non si può cambiare, questo amore viene e va, anche se non vuoi. Ma che scena. Io ho paura, Jane, ho paura. Di che? Ma non tu lo senti la notte, sento un sacco di rumori strani, sento. Ma per forza stanno nella giungla. No, no, secondo me siamo in pericolo, ma c'è un sacco di specie animale nuove a giro. E che tu vorresti dire? Ma non l'ha sentito la gazzella s'accoppiata con il finicottino rosa. E che gli è venuto fuori? Una gazzosa. No. Eh sì, o il riccio s'accoppiato con il leone. Il riccio con il leone. E che gli è venuto fuori? Un ricchione. Non tu maschi. Ma ven via, dai, modernizzati. Tu devi avere la mentalità più aperta, perché queste oramai sono storie di tutti i giorni. Anteso, ovvia, oh. Senti, secondo me egli è il porcospino. Il porcospino? Davvero? Lei da un po' di tempo e mi funca. Ma il porcospino addirittura? Sì. Ti funca? Sì. Ma? Senti, porco egli è porco e già questo mi dispiace. Però lui ne ha osa, mi dispiace, gli è che fugge. E buca. Ma non c'è la mia stava lui allora a fare il piercing ai pesci. E adesso andiamo con una bella novità. È un bel tango che ci fa ascoltare l'orchestra La Vaporiera. Sì, è una street band, è una bella novità con un tango appassionato. Appassionato, prodotto dall'edizione Novalis e quindi lo andiamo a vedere insieme questa bella novità. La Vaporiera, per voi. 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 E entrare nelle vostre case, magari. Mezz'ora di buona musica. E vai. Di canzoni. Corre? Vai. Usciamo sciare. Sciare. Eh sì, ed ecco. Questo è il periodo giusto. guardare. 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 Ah, vabbè, quella è un'altra cosa. Ritornellare. Vediamo domani, prima che la Paola vada fuori del seminario. Ci vediamo. Ci vediamo domani. Ciao. 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 Quanti ritornelli